DJI Mini 3 PRO! Adesso vi provo a vedere come si apre Dove si apre? Mi dite dove si apre? Eccomi qua ragazzi! Allora, per scoprire dove si apre? Sono geni Qua c'è sto roba che è sempre per... Ma io che ne... Qua c'è abbiamo... La droga E qua c'è... Vediamo che c'è qui dentro Ma che è? C'è intrude! Questo qua è il trone Sembra un pochettino una rana Ok, allora Poi passiamo allo stato sotto Lo stato sotto? C'è? Wow! C'è questo controller Che c'ha lo schermo Ragazzi Il primo controller che c'ha lo schermo Non è stato disomatico lo schermo però Siamo poveri Quindi dove si apre? Allora Bene Apriamo questa bustina Ecco qua ragazzi Il nuovo controller E' questa roba Tu mi spieghi cos'è quella roba là Ragazzi Allora qui dentro Allora Ci sono le eliche di ricambio Per il drone Per se si rompono le eliche Beh allora Qua ci sono i manualetti che Non ascolteremo assolutamente Qua invece Spiegano pure cose che non ce ne frega niente E qua c'è un bellissimo cacciavite ragazzi Sì Abbiamo speso tutti questi soldi per questo cacciavite Poi Un caricatore Ovviamente un bellissimo caricatore Assi soluzioni che non ce ne importa un po' più Niente Anche qua Qui Un'altra cosa sull'alletto Ma chi se ne frega Per una seconda volta Allora ragazzi Qua abbiamo finito di Di vedere il manuale dei cinesi Ovviamente Non possiamo leggere ma perché Ovviamente siamo cinesi Guardate questo nuovo schermo Hanno messo un telefono qui dentro Quindi ovviamente accettiamo la lingua Americano Italiano Ovviamente Che siamo di Poi Accettiamo tutto Senza neanche guardare Italy Attiviamo Vado Poi Rete Metto Adesso Vediamo la parte più importante Quello più importante Ovvero Il drone Ovviamente il drone subito dopo di questo Questo è più importante Allora Apriamo La cattura Per soltanto per farvi vedere La telecamera Si apri Si apri Da sotto ragazzi Ovviamente Vi faccio il tutorial E qua Ci abbiamo il nostro bellissimo drone Che può fare il video per Instagram Ragazzi Comprato questo drone per fare il video per Instagram Allora Questo drone può girare così Può fare così C'ha ammortizzatori Si Ci sono ammortizzatori Il momento satisfied Molto poco satisfied Guardate Ci togge la pellicola Ci toglie la pellicola Guardate Bene Ho assorbito di tutta questa Questa Trovo anche questo bollino Bene Guardate Zacchette Poi La spunete la tolgo o la tieni? La tengo La tolgo? La tengo? Ragazzi Abbiamo finito Vedete i prossimi video Vedete i prossimi video Del canale Di Ulberts De Pazzoide Poi Però Ultima cosa Ragazzi La cosa più importante Ovvero Quello che abbiamo speso Tutti questi soldi E ovviamente Il cacciavite ragazzi Guardate Guardate questo cacciavite Eh Lo so Lo so Lo so Lo so È benissimo Questo cacciavite Bene Allora Al prossimo video Mi raccomando Lasciate like I like In tutti i video Fate esplorare la campanella E soprattutto Seguite il canale Il signor Marcos Ligian Urbex Ciao Ciao